Ma bella a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui con un video specialissimo Infatti questo è il primo video di una nuovissima serie Ovvero la reaction alle vostre postazioni da gaming barra streaming Infatti qualche giorno fa vi ho chiesto di mandarmi su Instagram in messaggio privato Le foto delle vostre postazioni E mi avete riempito i direct Quindi oggi sono qui per reagire appunto alle vostre postazioni Prima di continuare col video però vi invito già da subito a lasciare un bel pollicione in su Per sostenere questa sera ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi video E se ne vorreste vedere altri se vorreste anche voi comparire in un video del genere E ovviamente iscrivetevi al canale attivate la campanellina per non perdere i prossimi video E vi ricordo che tutti i giorni vi potete trovare in live sul mio canale viola dalle ore 17 Link in descrizione di tutti i miei social anche Instagram dove mi dovete mandare le fotine Ora però senza girarci troppo i pollici io direi di andare a guardare le vostre postazioni Let's go Ok ragazzi ci siamo Come vedete mi sono messa da parte un po' di personcine che mi hanno mandato le loro postazioni Ovviamente non ci sono tutte le persone che mi hanno mandato le foto perché siete tantissimi Ma tranquilli che tanto se non comparite in questo video se non vi vedete in questo video Comparirete in uno dei prossimi perché questo ovviamente sarà una lunghissima serie Anche perché è molto divertente Io partirei subito con la prima postazione La prima postazione me la manda Lorenzo Nolli e devo dire e devo dire che tanta roba C'è veramente veramente bella doppio monitor vedo microfono blu yeti comunque bel microfono a destra Un bel sembra essere un bel pc Tastiera e reggi cuffie molto ordinata vedo anche il cable management quindi la sistemazione dei cavi ottima perché non pendono pure la sedia da gaming Io questa postazione la vedo veramente veramente stra positiva veramente veramente bella complimenti Andiamo avanti con la seconda postazione che ce la manda Jo Play Jo 22 Ok ci ha mandato diverse foto Nella prima foto oltretutto TAN 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 Compare nella foto Comunque sembra molto molto bella Nel senso vedo una televisione Un pc Pad Tastiera Mouse Cioè vedo di tutto e di più Cioè è veramente grossa comunque È una bella scrivania Con un sacco di roba Ci sono pure le casse Tanta tanta roba Infatti c'è scritto Ci sono due tv e due playstation Perché uno è mio e uno di un mio compagno Quindi mica piena di roba Piena di playstation questa Se volete giocare andate nella postazione di Gio Perché c'è posto per tutti Andiamo avanti Altra postazione ce la manda Raffaele Bella, bella la foto Bella la scrivania così curva Mi piace il monitor stra curvo Non so se ci gioca così Ma sembra veramente Beh veramente bella Raga ma avete delle belle postazioni comunque Anche lui intravedo la sedia da gaming Mouse, cuffie, tastiera Direi pulita comunque per giocare tanta tanta robetta Poi altra postazione ce la manda Anna Maria Vabbè raga ma siete tutti dei fenomeni Ma c'è tra un po' avete le postazioni più belle della mia La classica scrivania appunto da bambini Da ragazzini di quando ancora si vive a casa dei genitori Ma notare due monitor che mi sembrano della ROG Tastiera RGB molto bella Tappetino, mouse C'è di tutto C'è bellissimi pure gli sfondi puliti Tanta roba C'è mamma mia Bellissima Andiamo avanti Postazione di Vito Pazzesca Ma sembra una foto presa da internet Ma è bellissima Se veramente la tua postazione non l'hai presa da qualche sito Bellissima Con il tappetino tipo quello con la cartina geografica Tipo del mondo che si trova su Amazon Bellissimo C'è sia il pad che una tastiera Mi pare di quelle mini Mouse Bellissimo lo sfondo Bellissima l'illuminazione Vedo il pc Bellissima Psst Raga sono invidiosa vi giuro C'è delle foto così pulite Non le vedi ma anche su internet Se la tua postazione è davvero Complimenti Veramente complimenti Andiamo avanti con Andre Che mi manda una foto oltretutto con il mio canale youtube Quindi momento spam Seguitemi su youtube Mi raccomando iscrivetevi ragazzi E abbiamo direi un monitor Le due casse oltretutto rgb Un mouse della logica La tastiera al microfono appeso all'asta Un'altra foto di profilo Beh direi lo spazio sfruttato al 100% in questa postazione Con pure il tappetino con i bordi rgb Bellissima Andiamo avanti con Nicolò Che mi manda anche lui un sacco di foto della postazione No vabbè ma sta scrivando No aspetta No Ma che bella Ma è bellissima la scrivania Cioè tipo c'ha l'impalcatura Con una mensola sopra Sembra tipo quasi il tavolino che esca Tipo il monitor più alza Bellissima Ti giuro veramente bella Comunque La sedia è bianca da gaming Per quanto magari nel tempo si possano sporcare Fanno la loro bella figura Vedo anche tipo la sfera Zoomiamo La sfera quella tipo magica Dove metti le mani E partono tutte le scintille Bellissima questa postazione Veramente veramente bella Complimentoni anche a te Andiamo avanti con Alessandro Villella Che mi manda una postazione invece molto umile Qua invece molto umile Però c'è tutto quello che serve Tappetino Mouse Tassiera E monitor E che cacchio ti serve in più C'hai pure un cavolo di coso Appeso della Toon Palesemente della Toon Sul muro che è il tuo santino portafortuna per i game Tanta roba vabbè lì Te l'ho scritto Top Sei un grande Pulita Easy Andiamo avanti con DF Meglio conosciuta come Delia No vabbè io perché faccio vedere ste cose pure su YouTube Perché Delia come sfondo del desktop C'ha la mia foto Zoomata con me Con il dito nel naso Ma io mi dissocio Ma non me la puoi mettere come sfondo del PC Comunque anche lei Molto pulita la postazione PC con le cuffie appese Che si vedono a sinistra Due monitor Tappetino Tastiera mouse C'è pure un coso che Spunta Cos'è Spongebob Già che Spongebob lì vinci tutto Perché è uno dei miei cartoni Dell'infanzia Chi non conosce Spongebob Non merita di stare al mondo Bella comunque la scrivania Ce l'avevo La mia vecchia scrivania Era fatta così Tipo a curva Dove avevo anche lo spazio a sinistra Veramente veramente bella Complimenti anche a te Delietta Andiamo avanti con Andy Barletta Che mi manda questa postazione Che è anche questa Molto umile Diciamo una scrivania un po' particolare Non l'avevo mai vista Fatta così Secondo me traballa un po' Però ottima sedia da gaming Anche lui c'ha tutto Ma siete ormai pieni di roba Ragazzi Io mi aspettavo gente Che magari giocava sullo sgabello Davanti alla tv In sala Invece tutti con una postazione Da urlo Da urlo Andiamo con Michela Ponzo Che mi manda anche lei Bellissima anche questa la foto Comunque così È tutto scuro con i led Led attorno alla scrivania Le casse anche lei RGB Una bella tastiera meccanica bianca Mouse Tappetino anche quello con i led E monitor ricurvo Boh ragazzi Veramente Potrei passare il tempo a dire Avete delle postazioni bellissime Nulla da dire Ultime tre postazioni Abbiamo Ellie Con una postazione Con una piccola scrivania Ma con tutto quello che serve Pulito In una piccola scrivania Se gestita lo spazio Al top Andiamo avanti con Cristian Besenti Che mi manda Un sacco di foto Oddio Un sacco di foto Ha due postazioni lui Addirittura due ragazzi Abbiamo una mini postazioni Per l'editing Quindi farà anche Magari edit video Dove abbiamo un bel pc portatile Addirittura la tavoletta grafica Poi matite Penne Alexa Tutte robe che servono No per la gestione Oltre alla postazione da editing Ha anche una postazione da gaming Ok Qua c'è la sua foto Della cameretta Classica cameretta Da bambini Quella bella tutta colorata Che c'avevo anch'io Bellissima Oltretutto bellissimo Il mappamondo Sembra che si illumini Fantastico E abbiamo qua La sua postazione Molto molto bellina Molto bellina Comunque utile Abbiamo il monitor Attaccato al braccio Quindi attaccato al muro Abbiamo un pc portatile Dove magari gestisce la chat Se va in live Anche lui sul suo canale Viola e tutte queste robe Qua Un bel microfono Quello della trust Se non erro Abbiamo una tastiera rgb Abbiamo il mouse Il tappetino Direi anche lui Molto pulita Complimenti anche a te christian E andiamo avanti Con l'ultima postazione di oggi Che ce la manda Dal signor zinnari E vi giuro Non so perché Questa postazione Mi mette Un benessere Nel guardarla Estremo Non so perché Mi suscita delle emozioni Forse perché c'è minecraft E minecraft è uno dei giochi Della mia infanzia Ma veramente bella Con la nuvoletta Così attaccata a led Da decorativa Diciamo Cose che mettevo anche io Nella mia vecchia stanza Mi fanno veramente Rimembrare Me da piccola E direi un bel pc Anche lui Oddio le componenti Non le so Però esteticamente Un bel pc Con le lucine Abbiamo due monitor La tastiera Il mouse E vedo Cos'è questo robo È tipo un piccolo tablet Non lo so Oppure quella a fare Tipo dove scorrono poi le foto Non so se avete capito Di cosa sto parlando Del dubbio Postazione veramente carina Prima mi aveva mandato La postazione Con un solo monitor Poi mi ha detto Che ne ha aggiunto un altro Ed effettivamente così È ancora più completa Veramente Veramente belle Queste postazioni Siete stati veramente bravi Ragazzi Sono veramente stupita Dalla bellezza Delle vostre postazioni Alcuni di voi Saranno anche piccolissimi E hanno già un sacco di roba Hanno strutturato tutto benissimo Praticamente tutti Con due monitor Tastiera meccanica Tappetino XL Mouse Videocamere Microfoni Sull'asta C'è roba che veramente Io raga ho iniziato Ad avere All'età dei 18 anni Voi magari lì Pischelletti piccolini Che ci avete già tutto Siete veramente Non lo so Dei fenomeni ragazzi Sono veramente contenta Soprattutto per voi Più che altro Per le postazioni che avete Perché sono veramente belle E nulla Mi aspettavo magari anche Delle postazioni Un pochettino più bruttine Ho detto Non so cosa dire Magari sono delle postazioni Proprio brutte Devo inventarmi qualcosa Per non offenderli No un cavolo Ragazzi avete delle postazioni Da urlo Complimenti Però ragazzi Mi raccomando Fate una cosa molto importante Fatemi sapere nei commenti Se questa tipologia di video Vi piace Perché ci tengo veramente Tanto Essendo che comunque Mi sono impegnate Anche voi vi siete impegnate A mandarmi le foto Quindi fatemi sapere Se vorreste altri video Di questo tipo Sul canale E ovviamente Se sì Mandatemi sul mio Instagram Vi comparirà qua sotto Il pop up Con il mio nome Mandatemi le foto Delle vostre postazioni Così vi inserisco Nei prossimi video Comunque ragazzi Siamo ormai giunti Al termine Quindi vi invito A spollicciare A commentare Come dei pazzi Noi ci becchiamo Mercoledì In un nuovissimo video Bella ragazzi Siamo ormai giunti